Intanto è vero fino a un certo punto, perché l'autonomia delle regioni è una questione funzionale, ma è anche una questione ideale. Sai quante sono le regioni? 20. E sai quante sono quelle autonome allo Stato? 5. Quindi già una percentuale alta. Sardegna, Sicilia, Friuli, Valle d'Aosta e Trentino Alto Valdice. Quindi abbiamo delle autonomie più o meno funzionanti. Non funziona quella della Sicilia, ma mai la Sicilia rinuncerebbe all'autonomia. Il governo della Sicilia è un governo che ha alcune prevalenti rispetto alle altre regioni. Per esempio in Sardegna tu hai i beni culturali sotto controllo dello Stato. In Sicilia sono stato assessore dei beni culturali, ero come il ministro, è come il ministro assessore perché il ministro dei beni culturali si ferma in Calabria e la gestione del patrimonio, la proprietà dei beni, la titolarità dell'azione è tutta della regione. Se tu decidi di fare una cosa in Sicilia puoi farla anche rispetto all'Europa. Noi abbiamo dei vincoli bizzarri per il patrimonio artistico rispetto all'esportazione, al mercato, alla vendita delle opere d'arte. La Sicilia potrebbe decidere di fare l'assoluta autonomia come Londra, che è un paese libero, l'Italia non è libera. Per cui occorre capire come la definiamo. Quello che sento è vero, può essere costruita male quell'autonomia, ma l'autonomia in sé non è sbagliata. Ti faccio l'ultimo esempio che riguarda la mia persona. Io sono un funzionario di Stato, andato in pensione da qualche settimana, posso dire, e vinsi un concorso nel 1976. Era un concorso per un posto nazionale di ispettore delle belle arti, sensore per i beni artistici e storici, fatto su base regionale. Quindi prendere me, come prendere un insegnante, non vuol dire che se lo fai su base nazionale è più bravo che se lo fai su base regionale. Ogni regione ha il suo valore. Anche in questi anni fui destinato alla sovrintendenza di Venezia. Era un concorso nazionale costruito su base regionale. Quindi quando si parla di scuola, tu dove sei nato come conduttore? Sono di cavolo o no? Dove sei nato? Sono nato in questa rete che mi ha dato il possibile. Ah, sono romagnolo, vengo da Cesena. Che fai qua a Roma? Vai in Romagna a fare? L'aria che tiri in riviera, potremmo fare. Se facessero un concorso per un conduttore romano, potremmo fare lo stesso. Allora, tra poco arriviamo al tema.